A Palazzo Rosso si è discusso della riapertura dei sentieri sul Monte Schiara. In una riunione tra l'amministrazione comunale e i diversi enti interessati, si è parlato delle attività, delle competenze e delle disposizioni per il recupero del sito turistico dopo il maltempo. Il dibattito ha coinvolto i carabinieri forestali, l'Unione Montana Belluno-Ponte, la provincia di Belluno, la protezione civile comunale e dell'ANA, il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, il CAI Belluno e il Comitato Usi Civici di Bozzano Bellunese, concentrati a trovare soluzioni concrete per rimuovere gli alberi e rendere nuovamente accessibile la via per la porta sulle Dolomiti. È stata un'unione importante perché ci ha in qualche modo chiarito quelle che sono le norme ordinarie, ma anche quelle straordinarie dell'emergenza. Siamo qui appunto per organizzare, per cercare di capire e dare istruzioni ai nostri cittadini che in qualche modo vorrebbero interagire in questo momento di calamità, chiamiamola così, di emergenza, di post-emergenza. Su la raccolta del legname o sull'attività dei volontari bisogna stare molto attenti. La normativa ci permette di fare alcune azioni, ma nello stesso tempo ci dice anche di quelle azioni comunicarle. È meglio se sono delle associazioni che fanno delle attività e debbano comunque comunicarle al comune o all'ente proprietario dove andranno a fare quelle attività. Per cui l'indicazione che ne è emersa questa sera è che la comunicazione debba essere fatta sicuramente all'ente parco e ai carabinieri forestali se si vuol fare un'attività precisa, cioè la raccolta del legname.